C'è un video che immortala l'ex capo della protezione civile pugliese, Mario Lerario, nel momento in cui riceve la presunta tangente che lo ha fatto finire in carcere con l'accusa di corruzione. A documentare il passaggio di denaro è una telecamera nascosta dagli investigatori nell'auto del dirigente che verrà arrestato in flagranza pochi minuti dopo dai militari della Guardia di Finanza. L'uomo è in carcere dal 23 dicembre scorso, il GIP del Tribunale di Bari, Anna Perrelli, ha confermato la misura dello custodia cautelare in carcere al termine dell'udienza di convalida dell'arresto. Contestualmente, il giudice ha anche disposto agli arresti domiciliari nei confronti di due imprenditori coinvolti nella stessa inchiesta, Ciro Giovanni Leccese, di Foggia, e Donato Mortola, di Noci. Il primo, titolare della società, Edil Sella, è accusato del reato di corruzione in concorso con l'erario per la tangente che è costata l'arresto in flagranza al dirigente della regione, trovato in possesso di una busta contenente 10.000 euro in contanti. Il secondo è coinvolto in un altro episodio di corruzione avvenuto il giorno precedente, quando l'imprenditore, titolare della società Dmeco Anjanering, avrebbe consegnato all'ex funzionario pubblico una tangente da 20.000 euro, nascosta in un pezzo di manzo pregiato. Entrambi gli indagati, in base a quanto emerso nel corso delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dal procuratore Roberto Rossi e dal procuratore aggiunto Alessio Coccioli, erano assegnatari di appalti con la protezione civile regionale per oltre 5 milioni di euro. Si tratta di quelli relativi alla realizzazione di container per l'isolamento dei migranti positivi al Covid nel Cara di Borgo Mezzanone, per gli uffici della sede di Foggia del numero unico 112 nell'aeroporto Dauno, per l'ospitalità di migranti lavoratori stagionali, sempre nel Foggiano, e anche per l'installazione di strutture prefabbricate mobili di emergenza per pre-triage a supporto delle strutture ospedaliere durante la pandemia. Lavori che avrebbero garantito alle cese entrate per 2.800.000 euro e a Mottola per quasi 2.500.000 euro. Entrambi interrogati, dopo l'arresto di l'erario, hanno confessato, spiegando agli inquirenti che il denaro consegnato al dirigente era una loro personale iniziativa per ringraziarlo dell'assegnazione degli appalti. Dalle intercettazioni telefoniche, cominciate diversi mesi fa nell'ambito di una più ampia indagine della Procura barese sulla realizzazione dell'ospedale Covid alla Fiera del Levante, emerge, come riportano gli atti della Procura, l'esistenza di una fitta rete di rapporti tra l'erario e gli imprenditori coinvolti, caratterizzata dall'asservimento, in cambio di un tornaconto personale della funzione pubblica del primo agli interessi economici dei secondi. Nel corso dell'attività investigativa, l'ex capo della protezione civile regionale si sarebbe anche preoccupato di far bonificare il proprio ufficio dove erano stati sistemati i cimici audio-video consapevole di essere intercettato. Proprio in merito a tale episodio, la Procura di Bari ha aperto un'indagine parallela per far luce su una presunta fuga di notizie. Grazie a tutti.